Travizzino, in cucina nel banco del telefono non ci sta e te credo che ci sta, l'ho nascosto io e perchè? come perchè? Ma lo chiedi pure se c'è la buonanima di papà che sta aiutando i poliziotti lo sai che c'è il c***o che scetterebbe ma che sai addio? ma guarda che l'oglio è una delle famiglie mio padre e tuo padre erano pure il camicia quanto mi ricordi quando parlo papà? la mia moglie di Nico che stava all'aeroporto di Nova York e come mi ricordo? in arrivo un giumbo da cianpino in arrivo un giumbo da cianpino in arrivo un giumbo da cianpino allacciate le cinture che che scato l'aeroplano una volta l'ha pure salvato dalla galera, dai e no, quando sta in cella con quel certo Bartolo detto il monzese, quel procione se voleva anche aspettare ma quel Bartolo è proprio una brava persona ogni Natale ci manda sempre il panettone ma insomma questo elenco del telefono dove sta? sta sotto al c***o tuo Brigida, andiamo in cucina andiamo a mangiare un mostacciolo un cioccolatino la mollichella di pane tanto non c'è stancazza andiamo Brigida, dai, esprichate esprichate, dai